Lui con le sue storie L'applauso del cielo è nato da un'idea che Roberto ha avuto con la chitarra. Abbiamo trovato questo giro di accordi che ci suonava nella mente come qualcosa di davvero emozionante, qualcosa di forte. Si sa e la pioggia apre il suo spettacolo e il pensiero appoggia si miracolo. È passato il tempo di sentirsi solo e dall'alto scoppia l'applauso del cielo. Ho iniziato a scrivere il testo insieme a Nicola Agliardi. Ho per la prima volta fatto un lavoro a quattro mani che mi ha permesso di crescere dal punto di vista personale e dal punto di vista del testo di se stesso. Parla di questi due ragazzi che si trovano uno di fronte all'altro sotto un'improvvisa pioggia. Questa pioggia rappresenta un segno di purificazione e entrambi capiscono che c'è una speranza per il futuro. Ci stavamo confrontati molto con il regista e con Cosimo di Mato. Volevamo un video che specchiasse un po' le nostre anima, che comunque è un'anima molto rock. La pioggia apre il suo spettacolo e un pensiero appoggia sul miracolo per quelle vite appese sullo stesso filo e dall'alto scoppia l'applauso del cielo. E la pioggia porta nuovi desideri sopra quei due cuori spaventati fieri che si svolgono a forza per spiccare il volo e dall'alto scoppia l'applauso del cielo. Grazie a tutti.